ore 23 e 57 o sono tre fantasmi oppure sono diventati fosforescenti certo che è fantastico è proviamo a fare un po di zoom sono fosforescenti no incredibile ma te guardate le luci cosa riescono a fare e ho l'impressione che il quarto sia lì forse in mezzo ai tubi fatemi vedere sì quelle sono le penne del quarto tre fosforescenti più uno infrattato alle 23 57 dell'11 maggio 2023